... Vuole che ci faccia un'ambasciata al professor Satin? No, no, gli scriverò una lettera. Del resto lui se ne è già accorto che non sono tagliato per la pittura. È un peccato perché i pittori ci appa' tanti mescheia. Quelli bravi sì, ma io... Una tela bianca costa circa 3.000 lire, ma dopo che l'ho dipinta io non vale più neanche quella. Lucia! Lucia! Vino! Dove vai? Marto! Torno a casa! Ciao! Scrivimi! È il tuo indirizzo! Come? L'indirizzo! Grazie! Grazie a tutti.